La parola visione ha molti significati, come sempre ci aiuta ad esaminarli il presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. La parola visione è connessa al verbo vedere, e vedere è un verbo estremamente concreto, perché si vede quello che abbiamo davanti, quello che tocchiamo. Eppure nel corso del tempo la visione è diventata qualcosa che ha caratterizzato i mistici, i grandi immaginatori di realtà diverse, che avevano la forza di vedere concretamente qualcosa che ancora non esisteva. E a questo punto forse potremmo riflettere su una parola che è tipica del linguaggio aziendale moderno, la vision, come dal resto la mission. E allora potremmo chiederci se queste parole che sembrano così nuove, così importanti, così necessarie nel mondo del marketing e dell'impresa, non siano poi in realtà perfettamente equivalenti a delle parole che esistevano già prima in italiano e che hanno pressa poco lo stesso significato. Perché la visione può essere appunto un modo di proiettarsi nel futuro immaginando una realtà che ancora non c'è, ma che vogliamo programmare e realizzare. Grazie.